Ben ritrovati per un nuovo appuntamento dedicato a Sette in Punto, dedicato alla musica. Le settimane musicali al Teatro Olimpico, ne abbiamo già parlato con il maestro Giovanni Battista Rigon, adesso analizziamo questo importantissimo appuntamento dal 2 al 18 giugno prossimi, naturalmente a Vicenza, per parlare di aspetti molto interessanti legati a questa manifestazione. Lo facciamo con la responsabile del progetto Movie e Musica da Camera delle settimane musicali al Teatro Olimpico, stiamo parlando di Sonig Chakerian, buona giornata a lei. Buona giornata. Grazie di essere con noi. Partiamo anzitutto dalle settimane musicali. Che cos'è il progetto Movie? Il progetto Movie è un progetto che avevo in mente già da qualche anno e che sono finalmente riuscita a realizzare dalla scorsa edizione, quindi questo è il secondo anno che festeggiamo, è il secondo anno in cui festeggiamo la città di Vicenza, il centro storico della città di Vicenza con la musica a contatto con le persone, praticamente grazie anche alla collaborazione e al sostegno del comune che ci dà delle sedi molto interessanti e molto particolari del centro storico della città. Molti musicisti suonano dalle 14 alle 19 del 2 giugno, riempiendo di suoni questo spazio meraviglioso che è il centro storico. Le persone possono sedersi, alzarsi, camminare, ascoltare, cambiare luogo e vivere questa musica in modo molto, secondo me, naturale e spontaneo come dovrebbe essere. Perché l'idea poi della musica classica legata all'abito lungo o al teatro, che per carità ha il suo fascino, sicuramente a cui non si può rinunciare, però rende un po' la musica, il musicista, soprattutto l'artista, un po' lontano, un po' inarrivabile, sembra che siano persone con le quali non si riesce neanche a parlare. Invece in realtà noi musicisti per primi ci divertiamo un sacco ed è, credo, fondamentale che si divertano anche le persone che godono della musica. Ma questo crediamo sia importante proprio come fruizione, perché esiste una manifestazione come Umbria Jazz, dove anche lì ci sono momenti proprio a contatto con il pubblico, ma in quanto a musica classica in particolare non si era mai, o perlomeno non ci sono molte altre realizzazioni di progetti di questo tipo, crediamo, nel nostro paese. Sì, non molte altre, però si inizia ad avere questo tipo di attenzione. Sì, sì, e movie, quindi insomma quest'anno siamo tra Palazzo Chiericatti, il colonnato di Palazzo Chiericatti, Palazzo Leoni Montanari che ci offre il cortile, la loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori e ci sono tra l'altro al movie anche giovanissimi che suonano, quindi l'idea è quella di mettere insieme veramente il mondo musicale di grandi talenti, ovviamente perché sono tutti musicisti di altissimo livello, che offrono questa cosa alle persone, alla cittadinanza e quindi spero in particolare anche molto ai giovani, perché io ci tengo molto alla presenza dei giovani, al contatto dei giovani con la musica, perché credo che sia fondamentale anche per loro, soprattutto per loro. E quindi insomma ci sono vari aspetti, al Chiericatti c'è il quartetto, quindi avremo due quartetti, Alla loggia del Capitaniato abbiamo il jazz con Paolo Birro, abbiamo i giovani, ho messo anche la recitazione col pianoforte, c'è un gruppo di danze all'odeo, c'è anche l'odeo del teatro olimpico, mi sono dimenticata di dire prima, c'è il cast della cambiale di matrimonio con il maestro Rigon che fanno, cantano un po' di aria e sempre all'odeo, c'è una zona dedicata alle viole, a questo strumento un po' misterioso, un po' sconosciuto, che invece merita uno spazio importante, c'è uno spazio dedicato a dei giovani strumentisti che suoneranno Bach per violino e per violoncelo solo, adesso non vorrei dimenticarmi qualcosa, c'è Giovanni Bietti che viene con il suo Open Trios, quindi insomma anche personaggi di rilievo, di spicco, mi fa molto piacere perché questa iniziativa mi sembra che sia attesa anche in città, tanti ne parlano, chiedono, credo che abbia lasciato una bella emozione l'anno scorso, ecco, spero. È comunque ammirevole vedere come appunto tutta la città partecipa e viene quasi da pensare, un modello che sarebbe bello magari esportare anche in altre realtà del nostro Veneto, creare, non dico un circuito virtuoso, ma insomma un qualcosa, una continuità anche di progetto. Poi insomma voi abbracciate un periodo dal 2 al 18 giugno in cui proprio si entra nell'estate, perché insomma si accoglie l'estate, quindi augurandosi ovviamente che anche Giove Pluvio insomma stia tranquillo in quel periodo, insomma è sempre un grande spettacolo vedere non solo i musicisti, ma anche questo pubblico che li accompagna. Vivere fuori all'aria questa bellezza, la bellezza in luoghi belli, la bellezza della musica in luoghi belli e condividerlo con delle persone meravigliose. Insomma dobbiamo anche dare atto alla sensibilità dell'amministrazione comunale, perché lì bisogna sempre affidarsi ai singoli, ovviamente, insomma bisogna sempre sperare. Senza quella non avremmo potuto fare assolutamente nulla, come dicevo all'inizio, infatti loro hanno accolto con un certo entusiasmo questa idea, quindi ci hanno offerto questi spazi. Movie starebbe per Musica Vicenza, no? Musica Vicenza per cui insomma è anche un accostamento che rende onore. Già con il maestro Rigon dicevamo appunto la grande sensibilità di questa città Vicenza, che proprio per creare una, sembra una continuità che magari non è forse neanche voluta, tra il festival jazz, le settimane musicali, cioè si abbraccia anche un orizzonte musicale molto ampio, per cui anche bello, pensiamo per esempio allo straniero che venga a visitare le nostre città e che si trovi davanti magari il cartellone di questa iniziativa, può essere uno spunto anche interessante. Un grandissimo spunto, ma infatti noi abbiamo tra l'altro anche molti stranieri che vengono al festival e che colgono l'occasione anche del weekend per magari sentire sia il concerto che l'opera e vedere questo teatro meraviglioso, perché tutto questo poi è in una cornice assolutamente unica. Non credo ci sia un teatro che possa reggere il confronto con questa bellezza del Teatro Olimpico di Vicenza, pur essendoci tanti bellissimi teatri in Italia, però questo credo abbia un'energia, un mistero nello stesso tempo che lo rendono assolutamente inarrivabile. È incredibile come è acustica e non bisogna neanche creare una scenografia, perché è già realizzato di per sé, come un grande palcoscenico. Certo, l'acustica è meravigliosa, si canta e si suona magnificamente e soprattutto c'è quella giusta distanza, non distanza dal pubblico, perché tutto sommato siamo abbastanza vicini in questo abbraccio con le persone, perché la sua forma ce lo suggerisce, questo stare insieme proprio bene. E quindi è una suggestione grandissima, anche quando metti il piede sul palcoscenico, l'abbiamo fatto tante volte, ma ogni volta ci toglie il fiato, veramente toglie il fiato. Poi le luci, insomma è una suggestione notevole, importante. E poi se non abbiamo letto male, mi sembra di avere visto da qualche parte che è stato cambiato qualcosa all'interno del Teatro Olimpico, tipo migliorati i seggiolini. Hanno messo dei cuscini più comodi, effettivamente, beh, star seduti lì sul legno non è proprio comodissimo e adesso hanno messo questi cuscini bellissimi, molto confortevoli. Però com'è strutturato? A gradoni, sono dei gradoni di legno grandissimi e si sta seduti proprio sul grandino. C'è anche un rapporto, come dire, con gli esecutori, con i musicisti che è veramente bellissimo. Sì, vorrei un momento tornare, sarei d'accordo, proprio a questo, a questo, sa come si dice a giorno d'oggi, sdoganare un po' la distanza che tante volte c'è tra l'orchestrale e il pubblico. Tra il musicista e il pubblico, sì. Sì, tra il musicista, sì, scusi. Sì, sì, beh, certo, è quello che stiamo cercando di fare da tanto tempo, anche nella programmazione comunque al festival o dei concerti di musica da camera, della cui programmazione sono responsabile, è che mi dà l'occasione di divertirmi con cose nuove, esperimenti nuovi. Tra le tante cose che abbiamo fatto è stato anche quello di raccontare, spiegare, parlare, suonare, risuonare e quindi creare anche un colloquio non solo musicale con le persone che sono presenti in teatro e questa cosa è sempre stata accolta, è piaciuta molto, è stata accolta con entusiasmo e ha aiutato a sentirci davvero più vicini, ha sdoganato in qualche modo veramente la figura del musicista rispetto al pubblico. Vorremmo chiederle un altro particolare a proposito della distanza pubblico-musicista, però lo facciamo fra qualche minuto perché ci concediamo una breve pausa per alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi ma soprattutto con Sonig Ciaccherian che è la responsabile del MUVI, Musica Vicenza e del progetto Musica da Camera che analizzeremo tra poco, ah tra poco, scusate il gioco di parole. Seconda parte di Sette in Punto, stiamo parlando di musica, lo stiamo facendo con la responsabile del progetto MUVI e del progetto legato alla musica da camera nell'ambito delle settimane musicali al teatro olimpico in scena dal 2 al 18 giugno. Parliamo di Sonig Ciaccherian, la grande violinista che è con noi e che ci conforta con il suo sorriso. Ecco, tante volte l'atteggiamento di un musicista sembra distaccato, sembra lontano. Non è così perché la concentrazione sul pezzo, a proposito di quello che lei ci raccontava, del pubblico sempre più vicino, cioè la distanza sempre più accorciata tra musicista e spettatore. Non può magari in qualcuno di voi disturbare per il discorso della concentrazione, del momento dell'esecuzione? Beh, credo sia un fatto molto personale, molto individuale, dipende molto dal musicista, ma non solo, anche dalla situazione in cui ti trovi e dalle persone che sono sedute vicino a te, dalla loro educazione, dalla loro capacità di concentrazione. Comunque di solito quando si crea questa misteriosa energia che ti tiene legato così col fiato sospeso, a me personalmente avere le persone vicine fa solo piacere perché credo che sia ancora più bello avere tutti i vicini. Qualche volta capita anche di avere qualcuno seduto per terra perché non c'è più posto, così. E credo sia una cosa bellissima. Io sono favorevole, sono fra le persone che gradisce. Ecco, mentre lei sta parlando, il collega in regia Andrea Vernier sta proprio mostrando questa bellissima immagine del teatro olimpico che crediamo sia quasi sempre pieno, anche perché non ha una capienza così grande. È uno dei nostri concerti, questo vedo, sì. Uno dei nostri concerti, sì, esattamente. Materiale fotografico che ci è stato gentilmente concesso, procurato, però il colpo d'occhio è favoloso. Cioè a distanza di quasi mezzo millennio, insomma, perché pensiamo 400, sono mai i 600 e passa anni che esiste questa realtà. È un miracolo. È un miracolo, sì. È un miracolo, sì. È veramente un'intuizione impressionante. Un'intuizione artistica impressionante, sì. E la musica naturalmente in un luogo così gode di ancora più bellezza, perché lo possiamo dire, insomma, quando suoni in un teatro come questo, insomma, gli animi sono più felici. Sì, insomma, c'è una sorta, è una parola impegnativa, perché è felicità, però c'è un sentire diverso, insomma, sicuramente, sicuramente. Pensiamo che anche appunto, cioè sia proprio questa, la possiamo chiamare alchimia che si crea tra chi esegue e chi ascolta, che è, insomma, magica. Veniamo alla musica da camera. Sì. Una domanda che forse l'abbiamo già rivolto. Musica da camera, uno dice, sì, è musica per far dormire. Speriamo di no. Speriamo assolutamente di no. Anche perché poi con i progetti che ci sono, insomma, speriamo di fare esattamente il contrario che far dormire. Conciliare il riposo dopo il concerto, quello sì, perché uno torna a casa sereno, soddisfatto e arricchito, quello sicuramente. Durante il concerto credo che l'attenzione e la capacità di cogliere l'attenzione del pubblico sia fondamentale, anche con dei programmi particolari. Come si fa ad elaborare un programma? Lei ci lavora tutto l'anno, credo. Cioè, lei sta già pensando alle settimane musicali 2018? Beh, quasi, sì, quasi. Ci vuole del tempo per pensarci delle idee, a volte vengono anche parlando, sì, con gli amici musicisti. Ad esempio il primo progetto, quello del 3 giugno, in cui viene Mario Brunello. Diciamo che è un progetto che già lui propone per conto suo e che ho accolto all'interno del festival con qualche leggera modifica. Quindi, a volte, proprio veramente parlandosi, si creano le cose insieme. a proposito di questo programma che ho intitolato Musica e Mistero, perché diciamo che la musica, la poesia, il mistero di quello che c'è e non c'è, non sappiamo se ci sarà, anche con i canti di Comitas di questo religioso armeno che ha raccolto nel suo, in un periodo, in un lungo periodo che ha passato tra i pastori dell'Armenia all'inizio del secolo scorso, raccogliendo questi canti che loro si passavano oralmente, trascrivendoli. Insomma, e quindi anche tutta la questione legata al mistero della creazione e di tutto quello che ne consegue, insomma, anche il pezzo che suona Mario della Guba Idulina è sul testo del Cantico delle Creature di San Francesco. Quindi, insomma, i misteri che ci sono intorno a questo progetto sono tanti. Sì, e Bach, la ciaccona, che è pure in programma, che di solito è uno dei pezzi fondamentali del nostro repertorio per il violino solo, la farò con il coro, perché è stato fatto uno studio, beh, Bach è uno dei tanti musicisti più misteriosi, più enigmatici che conosciamo e sono stati individuati dei temi di corali che lui ha utilizzato e vengono cantati dal coro durante l'esecuzione della ciaccona. Quindi, insomma, sono tanti misteri che girano intorno a questo programma. Lei ha parlato di questo mistico, questo comitasco, questa figura già affascinante, e ha parlato di silenzio. Quanto nella musica ha importanza il silenzio? Beh, è una parte fondamentale. Il silenzio c'è sia prima che dopo l'esecuzione di un brano che durante, perché il mistero del silenzio, prima di cominciare questo momento, è carico di grandissime energie e anche il silenzio alla fine dell'esecuzione è molto affascinante. E il silenzio che c'è durante l'esecuzione, le pause, ad esempio, della musica, nelle pause non c'è mai silenzio perché accade sempre qualcosa, lo stesso, no? Come quando si recita, insomma, la pausa fa parte, raccoglie l'energia, la concede in modo diverso a seconda di come vivi musicalmente la pausa. Insomma, il mistero del silenzio, anche esso, è una grande ricerca, secondo me, anche solo la ricerca del suono prima di cominciare. Non sai ancora che suono verrà fuori, ce l'hai già in mente, però te lo aspetti. Insomma, è una grande magia. No, è incredibile perché ovviamente da parte di una musicista di esperienza e non diciamo ovviamente che Sonica Carian ha una certa età, ma semplicemente che ha tanta esperienza, ha cominciato la bambina Bina, e diciamo, lei ci parla appunto di sensazioni sempre nobili, uno dice, ma quel compositore è sempre lo stesso, invece no, cioè viene filtrato dalla sensibilità del musicista, filtrato è una brutta parola, filtrato, ma comunque viene espresso dalla sensibilità del musicista e ogni volta suona diversamente. Beh, certamente, anche perché è espresso dal nostro umore, dal nostro sentimento, dal nostro star più o meno bene in quel momento, dall'essere più o meno sereni, più o meno arrabbiati, la vita, il quotidiano arriva anche lì, non è che riesci a buttartelo sempre alle spalle e quindi in qualche modo ti influenza, oppure anche il suono della sala, devi abituarti a secondo della situazione in cui ti trovi, ad adattare il suono del tuo strumento per farlo vivere nel miglior modo possibile, di solito hai anche poco tempo per farlo e anche addirittura a volte durante l'esecuzione ti adatti via via sempre meglio e c'è un'evoluzione anche nella qualità del suono durante il concerto, quindi è abbastanza complessa come cosa, non è così, sembra naturale o spontanea, ma in realtà c'è tanto lavoro e tanta consapevolezza dietro. Possiamo rivelare al nostro pubblico un piccolo segreto che ci ha svelato Sonik Chakerian, la musica è anche una terapia contro i malanni, cerchiamo la terapia insomma. Se ne sente parlare da tanto tempo, io non so se sia vero oppure no, certamente noi musicisti siamo un bel gruppo di persone, stiamo bene, parlo per me, quando suono alla fine sto meglio, veramente meglio, ma anche facendo un esempio molto banale, non so se sono raffreddata, sono raffreddata, sono raffreddata, come starnutisci, in concerto però quando cominci a suonare non starnutisci, non tossisci, tutte queste cose è come sparissero improvvisamente perché probabilmente senza renderci conto anche con la concentrazione, evidentemente il respiro, del battito cardiaco, tante cose cambiano e quindi credo che così come me ne rendo conto io, che non solo fisicamente ma anche a livello di umore, di soddisfazione, di star bene con me stessa, quanto questo influisca sulla mia persona, penso che altrettanto possa essere per chi lo riceve, per chi ascolta, anche se dico sempre alla fine noi musicisti ci divertiamo di più di voi che ascoltate, perché suonare è veramente un'altra cosa, è una cosa bellissima. Ci permetta, noi ci stiamo divertendo anche ad ascoltare Sonig Chakarian, non alle prese con il suo strumento, ma alle prese con l'altro strumento di cui è dotata, cioè la voce. Noi ci fermiamo qualche istante, ancora qualche consiglio per gli acquisti come li definiva un collega molto più famoso di chi vi sta parlando e ci rivediamo fra alcuni minuti con Sonig Chakarian, a tra poco. Ultimo momento di 7 in punto, siamo in piacevole compagnia con Sonig Chakarian, che è la responsabile del progetto Movie, Musica Vicenza e del progetto Musica da Camera, nell'ambito delle settimane musicali del Teatro Olimpico, dal 2 al 18 giugno. Che cosa è rimasto ancora da spiegare, da illustrare a chi ci sta ascoltando da casa, che può invogliare a venire a seguire queste settimane musicali? Adesso non le chiediamo uno slogan tipo elettorale, ma insomma per quale motivo una persona viene a seguire le settimane musicali del Teatro Olimpico? Il programma degli altri due concerti che ci saranno quest'anno ha sempre qualche novità, perché io poi aggiungo sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di fatto apposta e in questo caso inizia il 10 di giugno l'integrale dei concerti per violino orchestra di Mozart, che farò con l'orchestra da Camera di Padova, che tra l'altro è nostro ospite regolare, ma con la particolarità delle cadenze dei concerti scritte da Giovanni Sollima per me. Giovanni Sollima mi immagino conoscerete tutti, violoncellista straordinario, compositore incredibile, eclettico, lui va dal barocco al rock e siccome poi i concerti di Mozart, come tutti i concerti, hanno la parte in cui all'epoca si improvvisava, il solista improvvisava, io non sono capace di improvvisare, sono state scritte molte cadenze, ci sono delle cadenze storiche, violinisti, compositori importanti che hanno scritte, ma ho pensato beh basta, adesso è ora di avere qualche cosa di nuovo. Giovanni secondo me, a parte che lo conosco e lo stimo tantissimo, a me sembrava la persona più adatta per questo, perché come in effetti è, oltre ad essere uno strumentista d'arco e quindi conoscere benissimo lo strumento d'arco, ma non solo questo, da buon siciliano penso io, è capace di raccogliere tutte le intuizioni, tutte le curiosità, tutti gli stili, tutti i mondi e di liberarli poi nella musica e così ha fatto anche con i concerti di Mozart, ha preso, naturalmente sono anche abbastanza in stile tutto sommato, pur avendo ogni tanto qualche momento in cui scappa via e trova una strada assolutamente nuova. e tra l'altro sono fatti anche queste cadenze, sono anche scritte con non solo per violino solo, ma anche con interventi dell'orchestra, per cui insomma credo sia una cosa comunque interessante da sentire, come le abbiamo già fatti, ma insomma è una prima volta, insomma quasi per tutti. E poi l'altro concerto con Andrea Lucchesini, che anche lui è già venuto tante volte, ma è un pianista straordinario, e il quartetto Nus, che è un giovane quartetto, perché anche abbiamo sempre attenzione anche per i giovani, mi piace avere dei giovani promettenti, bravi, credo che anche per loro sia un momento meraviglioso essere in un teatro come questo. E facciamo un programma francese con il quartetto di Debussy, la sonata di Debussy per violino e pianoforte, che è l'ultima opera che lui ha scritto, e questo concerto di Chosson, che è un concerto particolare per pianoforte, violino e quartetto d'archi, in cui praticamente pianoforte e violino sono due solisti con il quartetto. È una cosa, è molto famoso, molto conosciuto, ma non si suona così frequentemente. Noi al festival non l'abbiamo mai fatto, e quindi anche questa è una buona ragione per venire al concerto. No, indubbiamente anche per seguire l'incrocio stesso di suoni fra un pianoforte, un violino e un quartetto d'archi. Un quartetto d'archi, caspita, un sestetto, va bene. Sì, non è un sestetto, è proprio un altro concetto. Un uno più uno più quattro. Esatto, è un altro concetto proprio di composizione, non è propriamente un sestetto. Molto interessante. No, sono esperienze anche queste da vivere indubbiamente per quanto riguarda tutto il programma che abbraccia le settimane musicali. No, l'abbiamo sentita parlare entusiasticamente anche di, una volta le definivano forme di contaminazione, ma anche incontri di stile, per esempio il jazz che incontra la musica classica, adesso non scopriamo niente di nuovo, ma insomma sentire da una musicista come lei che è docente all'Accademia di Santa Cecilia. Sentire parlare in questi termini anche entusiasti significa che anche da quel punto di vista la forma mentis del musicista è cambiata. Sicuramente, ma anche perché la musica è tutta musica, insomma, voglio dire, anche il jazz, abbiamo avuto delle serate di jazz anche da noi al festival, sì, ho fatto anche un disco con le stagioni e le mezze stagioni con il jazz di Pietro Tonolo, quindi insomma siamo molto, abbiamo voglia di accogliere, no? E la musica d'altra parte è stare insieme e quindi insomma è un momento importante riuscire a stare insieme con persone, anche che parlano lingue diverse, ma capirsi e quindi... E' un linguaggio universale straordinario la musica, ovviamente. Sì, sì, sì. Poi il fatto che diate così spazio ai giovani crediamo sia bello, cioè anche nel pubblico, nello spettatore che vede questi ragazzi che crediamo trasmettano un entusiasmo, cioè diventa contagioso l'entusiasmo dei giovani, pensiamo che sia anche un approccio molto interessante. Abbiamo anche una sezione dedicata al progetto Giovani che sono tre concerti di vincitori di Borse di Studio, quindi insomma, e che suonano a Palazzo Leoni Montanari, quindi c'è un vincitore della Borsa di Studio di Santa Cecilia, uno del premio Brunelli che abbiamo istituito qualche anno fa, un concorso per pianoforte dedicato a Lamberto Brunelli che è stato un amico del festival, un nostro sostenitore, una carissima persona e anche questo concorso per pianoforte sta prendendo veramente piede, sempre più pianisti, sempre più bravi, livello sempre più alto e poi abbiamo avuto per anni il vincitore del premio a Venezia, insomma l'attenzione ai giovani è sempre presente, molto spesso ci sono stati dei giovani che sono venuti a suonare nella musica da camera, quindi con noi un po' diversamente giovani diciamo, quindi insomma l'attenzione per i giovani al movie, ci sono moltissimi giovani che suonano e quindi non possiamo farne a meno. No, no, indubbiamente, c'era ecco un aspetto che volevo analizzare con lei, lei che ha origine armenia ma vive in Veneto, cioè il Veneto è una fucina, chiamiamola, musicale straordinaria, ci sono tanti conservatori, insomma diciamo che è un terreno molto fertile per la musica. Beh sicuramente, per noi strumentisti ad arco poi è una scuola di grandissima tradizione, la musica, andiamo, partiamo dal Settecento, da Venezia, comunque la mia tradizione, la mia scuola con Giovanni Guglielmo è proprio una scuola veneta, ma non solo per il violino, anche i violoncelli hanno avuto, Mario Brunello è un violoncellista veneto, allievo di Veneti, cioè e anche per il canto è sempre stata una terra molto fertile, sì, una regione bellissima in questo senso. Lavorare diciamo in questa terra dà anche soddisfazioni. Per cui ricapitolando, visto che siamo alle battute finali sarebbe bello rimanere qua ore, forse Soniccia che non sarebbe così d'accordo anche perché gli impegni sono tanti, perché adesso, vabbè, si entra nel vivo, voi dovete provare e riprovare anche prima del concerto, insomma, fino all'ultimo si provano, cioè come funziona? Beh, è una cosa abbastanza particolare perché in genere quasi tutti gli organici della musica da camera relativi ai concerti del festival sono creati per l'occasione e quindi adesso a parte il quartetto NUS che viene, che è un quartetto formato, ma quando abbiamo suonato noi tante volte, quartetti, sestetti, quintetti, nessuno di noi era un gruppo già formato, ci si trova, si decide, decido, scelgo insieme, decidiamo insieme chi essere, che cosa suonare e ci troviamo in genere il giorno prima. Cospita. Sì, è una cosa veramente un giorno prima, due giorni prima, dipende anche poi da cosa si deve suonare, però l'idea poi di fare la musica così, di viverla non superficialmente, assolutamente no, può sembrare magari uno studio un po' veloce, non sufficiente, non è questo, anche perché ci sono dei musicisti straordinari che basta che facciano una nota ed è bellissimo, però l'idea di mantenere questa freschezza, ecco, nel vivere la musica con freschezza e cogliere poi durante l'esecuzione ogni spunto, ogni suggerimento così è bellissimo, naturalmente ci vuole un grande rispetto, capirsi molto, ma insomma funziona bene, devo dire. Lei ci sta parlando di un'esperienza profonda dal punto di vista spirituale, che crediamo anche annulli quelle che possono essere le forme di antagonismo, di concorrenza. Deve. Deve. Deve perché altrimenti non si arriva da nessuna parte, come dicevo prima è un modo importante per stare insieme, per condividere. Non è che abbia detto poco. Eh beh, è una grande scuola di vita, eh, sapersi mettere da parte, saper accettare la proposta di un altro, sono tanti, è una scuola di vita. Insegna parecchio anche per tutto quello che è al di fuori della esecuzione. Sì, è vero. 25 anni l'anno scorso, 26 comincia una nuova era. Speriamo, speriamo. Adesso abbiamo anche un nuovo presidente, perché Paolo Marzotto, insomma, ha seguito il festival per anni, ma ha detto lasciamo spazio anche ad altri. C'è Tiziano Tiozzo, giovane, imprenditore, vicentino, anche appassionato di musica. Tra l'altro faccio anche una prova pubblica da lui, nel suo albergo, in centro storico a Vicenza, tra l'altro ho visto, ho scoperto che ha un pianoforte che ha ristrutturato, ho preso uno di quei pianoforti da crociera, diciamo, ma molto bello, è tenuto benissimo, ho rimesso a posto e facciamo anche la prova pubblica del concerto del 17 giugno, quello con Chosson, quello francese, facciamo la prova pubblica lì, da lui. E quindi lui è molto sensibile, molto aperto, molto disponibile, grandissimo entusiasmo e quindi vediamo con lui, adesso iniziamo il 26esimo anno e siamo molto soddisfatti. Per cui diciamo è un giugno molto pieno quello vicentino, no? Eh beh sì, sì. Poi c'è l'opera, insomma... Diciamo sì, ma incontra l'estate in senso musicale ampio. Ampio, sì. Ampio, assolutamente ampio, che tocca tantissimi generi e in tantissimi modi, perché appunto dentro e fuori del teatro c'è musica che scorre libera. Diciamo è una soddisfazione, anche se per lei ovviamente è un impegno abbastanza importante, no? È un impegno, è un impegno, sì. Perché già con l'attività professionale che la porta fuori città... Sì, certo, sì, è un impegno, ma insomma siamo contenti, è una cosa bellissima. Siamo contentissime di essere arrivati ai 26 anni, che anche questo è un traguardo non da poco, non per tutti e poi in questo periodo di difficoltà per la cultura, insomma non è facile anche resistere, voglio dire, e quindi siamo molto contenti. Diciamo sono tempi un po' troppo prolungati di grande difficoltà, insomma, per la musica. Sì, per tutti, ma non solo per la musica, ma anche per la musica e la cultura, certamente, sì. Finché non si trovano, come dire, delle persone illuminate che colgono anche nell'opportunità, perché appunto, cioè come si diceva, poc'anzi, può essere una fonte di promozione, diciamo un veicolo di promozione importante dal punto di vista turistico, culturale. Altro che? Perché no, per cui, insomma, diciamo un appello che lanciamo, ma forse non ce n'è neppure bisogno, ai politici, ai decisori, insomma, anche la cultura crea indotto economico. E come? E come? E come? Speriamo che qualcuno raccolga anche il nostro appello. No, no, insomma, congratulazioni agli amministratori vicentini che hanno, insomma, sempre saputo, e non lo fanno da ieri, cogliere in questo momento, insomma, un'opportunità importante per la città, insomma, in Tukur. Certo, certo. Noi siamo estremamente grati a Sonig Ciaccherianna, che ci ha illustrato queste settimane musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, che poi è un titolo riduttivo, perché il Teatro Olimpico è un po' il, come dire, il centro, il punto di riferimento, l'hab, come si direbbe oggi, e poi ci sono tutte queste istituzioni, queste risorse architettonico-culturali straordinarie di cui è dotata a Vicenza, che ospitano i vari momenti. Dal 2 al 18 giugno, se volete avere informazioni ulteriori, online www.settimanemusicali.eu. È bello anche il fatto che sia aperto all'Europa, per cui, diciamo, è un modo anche per sprovincializzare, no? Certo. Grazie a Sonig Ciaccherianna e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie alla nostra ospite. Noi ci fermiamo qui, prima di cedere la parola alla seconda parte di questo nostro 7 in punto, che si rinnoverà domani, ovviamente sempre a partire dalle 7. Buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti.